Si chiama Francesco Garofalo, il maestro d'arte di origini napoletane ma residente a Pizzighettone. La sua storia radici sin dall'infanzia, quando già portava nel cuore la passione per il disegno artistico. Dopo aver studiato nelle più importanti scuole d'arte, si è specializzato nella tecnica dell'aerografo durante uno dei suoi tanti viaggi all'estero. È conosciuta in tutto il mondo proprio grazie ai ritratti eseguiti con questa moderna tecnica, con la quale ha conquistato il benvolere di personaggi quali Barack Obama, Papa Francesco, Sergio Mattarella e il principe Alberto II di Monaco. Ho iniziato a girare il mondo da 2015, quando il 2015 il console degli Stati Uniti di Roma mi ha ospitato a Washington perché mi ha commissionato il ritratto a Barack Obama. Da lì è stato un po' il mio trampolino di lancio perché è stata una pubblicità incredibile quindi sono entrate parecchie commissioni, parecchi lavori importanti, tra cui ho fatto Mattarella, Papa Francesco, Benedetto XVI, Padre George. Ne ho fatti veramente tanti, compresi artisti, cantanti, di tutte le specialità diciamo. Qual è la sua tecnica? Allora, io nasco come pistore classico, quindi olio. Nel circa, calcola, 2013-2014 ho frequentato lo Zenith a Miami dove lì mi sono accorto che l'80% degli artisti contemporanei americani già usava la tecnica dell'arografo. Mi sono innamorato di questo attrezzo e quindi sono già un po' di anni che lo uso e mi sta dando tantissime soddisfazioni. Comunque continuo a fare tecniche tipo spatola, pennello, sicuramente. Tanto è vero che proprio alla Pro Biennale di Venezia ho presentato un quadro 90-180 che si chiama Blue Woman dove lo sfondo è tutto spatolato e poi c'è questa donna blu che invece è aerografata, quindi è una tecnica mista. Qual è l'emozione nell'incontrare personaggi così importanti che le commissionano anche un quadro? La persona che veramente mi ha emozionato, non riuscivo neanche a parlare, è stata Papa Francesco perché ho fatto un'udienza privata con lui di 20 minuti quando gli ho consegnato il ritratto ha una dolcezza e dei modi quando parla che veramente ti resti senza fiato.